Premesso che noi partivamo da Ibiza, quindi Ibiza-Bergamo, quel volo è andato a buon fine. Da Bergamo a Palermo ci hanno annullato il volo, io ho una bimba fra l'altro di un anno, quindi il disagio dobbiamo arrivare a Palermo in Sicilia, quindi il disagio è veramente importante. Dovevo andare in bagno con estrema urgenza, è arrivato il capitano e mi ha richiamato. Io gli ho spiegato la situazione, gli ho detto capitano è un'ora e un quarto che sto aspettando, se dico che è urgente non è che c'è molta possibilità di scelta, non è possibile, fa schifo, è la situazione che fa schifo.